Come vuoi impastare il tuo? Come hai detto il tuo cotto? Come? Allora, il lotto cosa serve? Il lotto è lì sotto Lì sotto? È un manucazzo Eh, offre? Dopo, dopo? Offre solo un uovo come il cotto Purtroppo, ieri, ieri, che prove! Un saluto! Un saluto alla Calabria, dal centro del carretto Un saluto, come si può dire, alla Calabria Alta Un grande saluto alla Calabria Ionica del Nord Perché lei deve sapere che noi, con la Calabria, non c'entriamo niente Sì, voi avete più Ecco da buona ammazzatura Noi con la Calabria, non serviamo Come centinaia di metri Se ne vede anche il dialetto Il nostro Con le persone che stanno al di là Della pianura Di Sibari Della pianura di Sibari Sì, a 30 km 30 km No, non c'entriamo niente Né come cultura Se negli anni poi sono 15 km Sì, sì Né come cultura E né come... Come parlare O c'è costumi, o c'è costumi C'è la cultura quella è O c'è costumi Ma io lo sai cos'è Che ho sempre pensato che all'esterno è il carretto Un saluto Se sei il basagno Siamo a confine Siamo a confine Io ho le terre anche in Basilica Sì, siamo a reperto Proprio per il suo odio Perché siamo... Lei vede... Mentre la strada che viene Ad Alessandro Quella che va di sopra Sì, quella che va a San Paolo Sì, eh Nemmeno cinque chilometri ci conviene Tra Basilica e della Cava Sì, sì Cinque chilometri Un saluto a Francavilla No, quella è Francavilla 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 no Che c'è te? Alessandro Un saluto ad Alessandria Salute Salute Un saluto e salutami Un saluto e salutami Un bacio Un saluto Allora Alessandro Il caretto oppure All'ueggi Dalla piana di cerchiato Eccovi Piana di cerchiato Raga, quello non c'è non si metto Ce lo sai No, no, no Perché non Ecco Grazie Grazie